Ciao e benvenuti a questo nuovo video che esce speciale sabato sera. Non so quanti lo guarderanno, ma non è un video fondamentale, però sono un po' tutte le uscite degli altri fumetti di febbraio che ancora non abbiamo visto negli altri video, quelli manga, DC e Marvel. Diciamo, non c'è moltissima roba in realtà, ve lo dico, non ho trovato tutte queste uscite fondamentali per febbraio, vedremo marzo se migliorerà, ma siccome ci tengo a ricominciare a far uscire tutti questi quattro video che facevo una volta, ci proviamo. Al solito sono i fumetti che sono stati esplicitamente annunciati per febbraio, ovviamente qualcosina è già uscita, ma ve lo dirò nel corso del video, e me li sono segnati ovviamente sull'iPadino. Iniziamo banalmente con Panini Comics e con Conan il Barbaro 2, quello nuovo di Titan Comics e Heroic Signatures, testi di Gen Zab, disegni di Roberto Della Torre, da non confondere con l'altro Della Torre che ho taggato su Instagram rilanciando il primo numero del fumetto, in ogni caso l'ho comprato, non l'ho ancora letto, ma vediamo un po'. Però, se state seguendo la nuova serie di Conan e ve lo siete perso, occhio, fate un salto in fumetteria, ecco. Poi, sempre a tema Conan, dovrebbe arrivare sempre per febbraio il terzo omnibus della spada selvaggia di Conan, di Roy Thomas, John Buscema, Sal Buscema, un cartonatone di 944 pagine, in formato deluxe 18.3x27.7, costa 90€ e contiene gli episodi dal 29 al 44 di Savage Sword of Conan, serie storica del 74, e Marvel Comics Super Special 9. Ora, è l'edizione cronologica del primo magazzino a fumetti dedicato al cimmero, e in realtà, dal mio punto di vista, non è proprio il massimo, ve lo dico, perché la precedente versione cartonata che faceva Panini aveva le dimensioni originali, che non sono quelle del comic book classico, e infatti è un po' più largo di base. Qui, fondamentalmente, nonostante sia un omnibus e un'edizione teoricamente deluxe, le tavole sono ristrette. Eeeh, non proprio l'ideale, eh. Però, purtroppo, questi episodi qui, nella vecchia serie, sono introvabili, perché stampati un sacco di tempo fa, e quindi, se la volete, temo che dobbiate adattarvi a questa qua. Però, bene saperlo, ecco. Poi, proseguendo, abbiamo il quarto volume di Re, spazio, Spawn, perché se lo leggo Re, Spawn, sembra un'altra roba. La fondazione Exodus, ovvero il King Spawn originale, con gli episodi 19-25. Autori Sean Lewis, Todd McFarlane, Jerry Fernandez e Thomas Naklick, più altri ancora, solito cartonato, 160 pagine, 21 euro, con l'atteso ritorno di Sam & Twitch, il ritorno di un'altra persona, proveniente dal passato di Al Simmons, e altre cose spanose, spaunose, spavno, non lo so come dirlo. Comunque, per tutti i fan di Spawn, per giù non sia una lettura consigliata, titolo italiano terribile, ma vabbè. Poi, questo invece è già uscito questa settimana, è Star Wars, l'Alta Repubblica, avventure, volume 2, salvataggio pirata, che sono le storie per il pubblico young adult, o comunque più giovane, dedicate all'universo di Star Wars, ma nell'epoca dell'Alta Repubblica, quindi tipo secoli prima della battaglia di Yavin, per capirsi. È di Daniel José Older e Harvey Tolibao, più Tony Bruno, cartonato, 128 pagine, 18 euro, con episodi dal 5 all'8 di The High Republic Adventures, più lo speciale, immagino, The High Republic Quest of the Jedi, e via. Poi, proseguendo ancora, rimaniamo a Scorn Star Wars, perché arriva un epic, ovvero uno di quei volumoni cartonati con un sacco di pagine. È Gli Altri Figli di Tatooine, cartonato di 448 pagine a 41 euro, all'interno di un po' di episodi di Star Wars Empire del 2002, più Star Wars X-Wing Rogue Squadron, episodio 1,5, credo, e Star Wars Rebellion dallo 0 al 5. Credo di averla letta Star Wars Rebellion anni fa, potrei sbagliare però. Comunque, gli autori sono Rob Williams, Mike W. Barr, Davide Fabri e Thomas Giorello, più altri, e ci racconta di altri figli di Tatooine, come potete immaginare, perché Luke non fu l'unico eroe proveniente da Tatooine, perché c'erano anche i suoi due amici di infanzia, ovvero Biggs Darklighter e Janek Tank Sunbear. Solo che uno finirà per combattere dalla parte della ribellione, mentre l'altro da quella dell'Impero. Non le ho mai lette queste storie, magari prima o poi sarebbe anche interessante leggersele. E poi, sempre Star Wars ma non un fumetto, ma ci tengo a segnalarvelo, arriva Star Wars Romanzi L'erede dell'Impero, primo volume della trilogia di Tron. È un volume in realtà non canonico con l'attuale Star Wars, ma è un volume importantissimo per la storia dell'universo espanso di Star Wars. È fondamentalmente il primo romanzo importante uscito negli anni 90, l'ho letto a suo tempo, ho letto l'intera trilogia quando ero giovine, ed è la prima apparizione del grande ammiraglio Tron, che tra l'altro abbiamo visto anche nelle serie TV ultimamente. Il formato è brossurato, 416 pagine, a 24 euro, e se amate Star Wars e volete vedere cos'era il sequel vero di Star Wars, prima di Disney e prima anche della serie prequel, ecco, questa è la vostra occasione, consigliatissimo. Abbiamo poi Brosser Con, volume 3, l'incredibile fumetto scritto da Keanu Reeves con Matt Kint e Ron Garney. Cartonato, 136 pagine, costa 19 euro, e contiene gli episodi dal 9 al 12. Personalmente ho compato il primo e non l'ho ancora letto, ce l'ho lì da qualche parte da un bel po', però se vi interessa vedere questa strana storia con un strano berserker immortale, magari è divertente, prima o poi lo leggo e magari poi vado anche avanti a recuperare gli altri due, chi lo sa. E poi in realtà c'è un'altra cosa che è l'adattamento ufficiale del film di Dune, un volume cartonato di 136 pagine a 19 euro che contiene l'omonima graphic novel di Drew Johnson, e forse anche di qualcun altro, ma non è segnato. I grandi misteri della vita. Non trovo che sia molto interessante, sinceramente, l'adattamento ufficiale del film, ma magari qualcuno lo vuole leggere, ci può stare. Quindi, passiamo a BD. In realtà il fumetto che abbiamo è praticamente un manga, nonostante sia un fumetto italiano, e si intitola Kiss It Goodbye di Ticci. Volume unico, 15x21, 160 pagine a colori, a 16 euro. Una graphic novel, Girls Love Slice of Life, dal taglio caldo, intimo e familiare, che parla di amore, delle piccole giorni della vita, e di come talvolta anche le cotte più improbabili possono avere un lieto fine. Il che va benissimo, l'unica cosa che a me fa un po' storcere il naso, così, senza averlo letto ovviamente, è l'idea che un'autrice italiana ambienti la sua storia a Kyoto, con protagonisti giapponesi, quando a sto punto tanto varrebbe scrivere una cosa un po' più vicina a noi, ma vabbè, lo sappiamo. Olè. Poi, Saldapress. Per Saldapress già uscito abbiamo Dark Ride 2, orrore di famiglia, di Joshua Williamson, con Andrei Bressan, e Adriano Lucas, ai colori. Una storia molto orrorifica, già comprato per il secondo volume, in realtà sono curioso di vedere come andrà avanti. Sono 120 pagine, a colori, formato comic book, 15 ore 90. Consigliata se vi piace un po' l'orror misterioso, è ambientato in un parco dei divertimenti, dove però c'è qualche oscura potenza demoniaca all'opera. Molto figo. Poi, novità vera, Night Fever, la più recente collaborazione fra lo sceneggiatore Ed Brubaker e il disegnatore Sean Phillips, che lavorano praticamente quasi sempre insieme. Graphic novel teso e spaventoso, un'originale rivisitazione del classico Lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Anche questo, formato 120 pagine, cartonato, costa 19,90 euro, e dovrebbe essere un volume unico da provare, probabilmente. Quindi, lasciamo salda prespa, passiamo a Bonelli. Per Bonelli, in arrivo, o meglio in teoria, è già uscito il settimo volume del Pianeta dei Morti, La Grande Consolazione, con una storia scritta da Alessandro Bilotta e disegnato da Carlo Ambrosini. 168 pagine, 22x30, il prezzo è 21 euro, e se state recuperandovi la versione cartonata del Pianeta dei Morti, è la vostra occasione per andare avanti. Poi, arriva sempre in fumetteria Zombicide di Sopravvissuti, in versione cartonata, è un volume che costa 21 euro, per 128 pagine, e contiene fondamentalmente il numero 3 e 4 del brossulatino uscito in edicola un po' di tempo fa. Non era nemmeno male, in realtà, la storia. Se amate gli zombie, l'ho gradito, ai tempi, provatelo se non l'avete ancora visto, può essere interessante, comunque è già uscito il primo volume, un po' di tempo fa. Poi, chiudiamo con Cosmo, dove vi segnalo un paio di uscite che in realtà non conosco benissimo, ma sembrano interessanti. La prima è Murder Me Dead, nuovo libro dell'autore di Stry Ballets, ovvero David Lafam, un brossulato di 264 pagine, formato comic book 17x26, al prezzo di 22,90, fondamentalmente una lettera d'amore al noir classico che ci porterà lungo la lunga e oscura strada dell'ossessione, del sesso, del tradimento e dell'omicidio. Potrebbe essere interessante, soprattutto se amate il suo autore. E poi, per concludere, c'è anche il secondo volume di I Maestri Assassini, miniserie francese. Questo volume contiene gli episodi 3, Saek e il quarto, Neida. Tra l'altro è la serie heroic fantasy più venuta in Francia, ci dice Cosmo. Fondamentalmente è un tie-in dei Maestri Inquisitori, già pubblicato da Cosmo, e quindi potrebbe essere interessante, se vi è piaciuta quella serie, approfondire anche questa qua. Formato 18,6x25,8, 112 pagine, al prezzo di 16,90€. E con questo abbiamo già concluso. In realtà, non ho trovato altre cose fondamentali da segnalarvi per gli altri editori. Voi fatemi sapere se c'è qualcosa di queste cose che vi interessa e se c'è anche qualche altro fumetto in uscita che magari mi è sfuggito. Ora, io ho solo un problema in questi video, quello di Bao. Bao, purtroppo, nel preview, scrive cose random e quindi non hai modo di sapere cosa uscirà e cosa no, se non andranno a cercare su Amazon, nel caso, o sul loro sito, le uscite future. E sinceramente non ho voglia di fare questo lavoro perché potrebbero anche dirmelo loro. Magari per il prossimo mese se riesco a farlo un po' prima proverò a fare anche quello, però vediamo un po'. In ogni caso, se avete altre case elettrici che secondo voi vale la pena seguire, segnalatemele e vedrò di portare anche quelle in questo video. In ogni caso, io intanto vi ringrazio di aver guardato tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e cliccate sulla campanella per non perdervi il prossimo. Vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch. Secondo canale, Cantina Pelata a ricarico le live qui su YouTube, ovviamente. Poi c'è TikTok, Facebook, Instagram, c'è Telegram in cui c'è il gruppo in cui parliamo di fumetti, il canale con le notifiche e il canale con le offerte e direi che vi ho detto proprio tutto e quindi ci vediamo al prossimo video e per ora Potere Pelato!